Ciao a tutti, io sono Ale e sono tornato o meglio tornata o meglio tornata con l'asterisco e con l'influenza in un nuovo video Allora, oggi portate pazienza se magari la qualità sarà più lecera, più schifosa E non so quanto sarà migliore o peggior rispetto all'altra Perché sì, ho cambiato cellulare ma ora sto registrando con quella interna e non ho mai registrato quella fotocamera interna Ma so che è peggiore rispetto a quella esterna, ma pazienza insomma Oggi volevo portare, scusate anche il naso chiuso, portare avanti la rubrica dell'Ale e Pillole Che consiste in che cosa? In aggiornamenti in sostanza di qualsiasi tipo, insomma non della transizione Qualsiasi tipo di aggiornamento che può essere il mio gatto oggi ha fatto la pipine della neve perché sì, nevica O mia nonna ha attraversato la strada non sulle strisce con il carrellino, lo fa spesso Dunque la prima cosa che voglio dirvi o raccontarvi è la partecipazione ad un documentario questa volta Porterò sempre ovviamente la mia esperienza Assieme questa volta però ad una persona più grande teoricamente di me e una persona più piccola Io sarei la persona di mezzo, c'è una persona più grande e un ragazzo più piccolo teoricamente Non comunque con la stessa identità di genere, da quello che ho capito Quello si sarebbe dovuto svolgere barra fare, barra non so più fare video scusatemi In questo periodo qui, solo che poi c'è stato l'inconveniente del si va a votare Quindi è di mezzo e quindi posticipato E mi si è acceso il desktop, non so per quale motivo del pc E ho una paranormal casa, anche questo con novità Registrazione a DSL o fibra, sì lo so che non funziona la wifi, grazie caro Un'altra cosa, sì ho i capelli lunghi E no non voglio tagliarli, in realtà ho voglia di tagliarli ma non voglio di farlo Perché io mi taglio i capelli tipo da solo, da ormai 7-8 anni E quando sono così lunghi è sempre un grosso cesso Poi, allora, una brutta notizia e una buona notizia Partiamo da quella brutta La causa portata avanti con l'avvocato per l'isterectomia E è andata a farci friggere Quindi, ciccia, in sostanza No, non sono stato operato Mi avete chiesto in un sacco di persone Alla fine si è operato, com'è andata Ale? Sì, no, non è successo È venuto fuori un po' un casino, diciamo con l'ospedale Anche perché non sono stato trattato bene Assolutamente non parlo di accoglienza Parlo proprio di altre cose più serie Solo non voglio parlarne sul canale Perché poi non voglio fare nomi Non voglio che questa cosa sia Si divulghi Comunque non lo voglio fare Quindi va bene così Di conseguenza ho iniziato da un tot tempo Il classico percorso l'iter giuridico Quindi la prass in sostanza Quindi richiesta per i documenti Richiesta per il via alle operazioni E ci sono, ci sono dentro Mi sono reso conto di esserci veramente dentro In questi giorni qui Ed è stranissimo Solo quando appunto ho visto Sulla carta scrittuale Che poi c'è una nuova novità C'è una nuova novità C'è una news in più Ossia Il nome che ho scelto è sì Ale Ma è Ale Tancredi Martorana E Tancredi non è un secondo nome Ma è un nome composto Quindi apparirà sulla carta d'identità A differenza di un secondo nome Da quello che mi hanno detto Perché io non sapevo bene come funzionasse la questione E quindi sì Firmerò con Ale Tancredi Martorana Apro un'altra parentesi più piccola Ho Instagram Il mio profilo è Il mio profilo sì È sempre qui sotto in descrizione Su Instagram ho un altro link Nella bio diciamo Nel profilo Chiamato di Discrush Che è praticamente un Ask alternativo Nuovo Perché non va più di moda Ask Ora va di moda Discrush Dove comunque potete farmi domande anonime E anche non Un po' di persone hanno tirato fuori la questione Ale ma Perché hai scelto Tancredi Tancredi è un nome maschile Tu sei una persona non binaria Ora Pensavo che fosse chiaro a tutti Come funziona il fatto Nome D'identità di genere Che non sono connessi Come i pronomi Non deve essere forza connesso D'identità di genere No Cioè io posso Sui documenti mettere il nome Giovanna Se mi piace Cioè non è che devo stare A guardare la mia indizia di genere Il nome è una cosa A parte Quindi Io non devo per forza avere un nome Che sia non binario Se mi piace un nome Me lo metto Cioè Questa cosa qui pensavo fosse ovvia E chiara Ma mi trovo praticamente a rispiegarla Perché Molti non l'hanno capita Tancredi Come mai Non vi ho mai parlato di Tancredi Del nome Tancredi Non ho mai parlato con voi Perché non ho mai parlato con mia madre In primis Ho avuto paura del suo pensiero Che non le piacesse Anche se so che deve piacere a me Volevo che Cioè volevo dirglielo Ma Non volevo dirglielo Quindi Ho detto no Aspetto Non aspetto Poi quando mi sono trovato davanti all'avvocato Mi ha detto dunque Questo è il nome Questo è Hai scelto questo Ho detto no C'è anche Tancredi Allora poi Comunque Qualche settimana prima L'ho detto anche a mia madre Ma solo qualche settimana fa L'ho detto a lei Come solo Un po' di tempo fa L'ho inserito Anche su Instagram L'ho inserito Sul mio Facebook Perché Tancredi Mi è sempre piaciuto Un sacco Sia il significato Il nome Che il nome in sé Non so perché Ma proprio è amore Totalmente amore L'alternativa sarebbe stata Diego Però non mi convinceva Fino in fondo E no In tutta Italia Nevica da qualche giorno Qui in Trentino Praticamente è nevicato Solo oggi Il primo di marzo Per intenderci Chissà quando vedrete questo video Chissà quando lo editerò Sì A me non piace la neve Devo ammetterlo Non piace per nulla In questi giorni Sono davvero Tanto 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 fuori casa Ed è tanto anche Un disagio per me Cioè Non è un disagio Stare fuori di casa Però Non sono abituato A stare fuori così tanto Ci sono tante cose Di cui non vi ho parlato Sono tante cose Che non ho condiviso Molti mi dicono Ale come mai Hai condiviso Chi è Qualcuno mi ha Mi ha risposto A una storia di Instagram Tipo Ci volessimo Ale come mai Riesci a condividere Vuoi condividere così tanto Tutta la tua vita Sul tubo Quando in realtà Io non condivido Tutta la mia vita Condivido solo Praticamente Niente un 10% Con voi Tante cose Non le sapete Perché è giusto così Cioè Una persona Non deve per forza Mettere La sua vita Può scegliere Può filtrare E questo Questa è una cosa molto bella Che tante persone Dovrebbero anche tenere Molto a mente Secondo me Per dare un consiglio A persone che magari Vogliono aprire un canale Filtrate bene sempre Quello che volete dire E quello che non volete dire Perché io sono una persona emotiva E anni fa Devo dire che Ho tanto 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 parlato sul tubo Di cose che magari Dovevo forse tenere per me Non che io ora Me ne penta Però so che parlavo tanto Col cuore Con l'anima E non mi rendevo conto Che le persone Spesso Non sono persone Ma sono utenti La gente che ti guardano Ora sto tirando per lunghe Davvero questo discorso Diciamo che Uscire Non è il massimo Per me E uscire con la neve Fa ancora più Schifo Visto che ho un paio di scarpe Due al massimo E non ho Scarponcini Perché mi fanno altamente cacare E sì Devo comprarmi un paio Di Dottor Martins Devo assolutamente Comprarli da 5 anni A questa parte Dettaglio Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi avrò tipo Assolutamente Assordato O meglio Quando faccio così Si abbassa il volume Del microfono Poi si rialza Non so come si chiami Questa cosa qui Comunque io vi mando un beso Ci si vede al prossimo video Ciao a tutti Fatemi sapere come state Comunque qui sotto Nei commenti Un bello Ciao a tutti Ciao a tutti